Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red Oggi ritorniamo con Europa Universalis 4 Con la nostra bellissima malacca E con i nostri obiettivi che già c'eravamo organizzati appunto nel primo gameplay Possiamo andare avanti con il tempo E per ora dobbiamo stare un po' fermi a recuperare forze militari Un po' di stanchezza di guerra e altre cose interessanti Intanto un altro matrimonio Continuano a chiederci matrimonare Dobbiamo accettare il nostro vassallo Così magari li mettiamo tutti sottomessi a noi E dobbiamo migliorare le relazioni con Pattani Che ha desiderio di libertà veramente alto Vabbè anche perché è stato conquistato da poco giustamente Per ora dobbiamo fermarci con le guerre Abbiamo un po' di soldi e dobbiamo investirli effettivamente in qualcosa Dobbiamo investirli sia nel ricostruire una flotta Che abbiamo perso In guerra E dobbiamo concentrarci un attimo sulle galee Che le mercantili appunto per Riorganizzare L'intera flotta Mettiamola anche una qui E' a posto Cerchiamo di fare un po' di galee perché ci serviranno appunto per in futuro per riconquistare Cioè di conquistare Conquistare Tutta l'isola Borneo Ma questa qua dovrebbe essere Credo Andiamo a vedere Trade efficiente per 1 stabilità No Sicuramente di 2 soldi 16 monete per 1 stabilità Un po' Un po' scam Possiamo dire Allora i nostri obiettivi di questa giornata E' intanto recuperare un po' di manpower Riprenderci un po' da tutte le guerre E dobbiamo sistemare anche qui la situazione Io sinceramente Dare le terre è un po' rognoso Perché preferisco avere già una Delle entrate Più che punti tecnologici Perché tanto i miei modi di fare la tecnologia E Come ho detto già l'altra volta Gli estate Li odio Sinceramente tantissimo Non mi piacciono per niente E' una delle cose che Veramente odio di Europa Infatti spero che i suoi robo di universalist 5 Ne fanno una funzione migliore Magari funzionano meglio E' vero che Con l'ultima patch sono stati un po' migliorati Tutto il bene del mondo Però a me Sinceramente Non mi dice nulla Abbiamo comunque Un rischio di rivolta abbastanza basso per ora Si mantiene così Potremmo effettivamente mettere le truppe sopra Così diminuendo L'arrest con le truppe Cerchiamo di abbassarlo un po' Magari ci metterà più tempo a esplodere la rivolta Oddio Di poco però Intanto oggi è qualcosa Sicuramente la rivolta ci sarà Ci saranno le rivolte Dobbiamo solo avere pazienza E anche qui per il nostro vassallo Mi sa Potrebbe esserci un rischio di rivolta Visto la situazione che ha Un po' di stanchezza di guerra Un po' Direi tanta stanchezza di guerra E intanto Abbiamo Sia il re Che l'erede Abbastanza Forti Possiamo dire Non sono per niente male E abbiamo un po' di soldi In futuro da investire Più che altro Quando ci sarà l'istituzione Potremmo effettivamente Puntare a Sviluppare una delle città Ad esempio La città più Facile da sviluppare Probabilmente è questa Produciamo anche Porcellana Credo Dovrebbe essere porcellana Quella Queste altre province Non sono niente di che Come vediamo Anche questa alla fine La più conveniente È questa da sviluppare Molto molto buona Sicuramente ci può dare La possibilità di Sviluppare la produzione Il manpower Sicuramente Questa non sarebbe Tanto forte Come cosa da fare Ma Dobbiamo sviluppare una città Per avere le istituzioni Appunto E sblocchiamo Il primo punto Del governo Andiamo a vedere Quello che possiamo fare Sicuramente A noi ci interesserà Il commercio Che queste cose Sì infatti Trade efficienza Trade range Non è per niente male Per ciò che Dobbiamo fare Appunto Lo sviluppo Economico e commerciale Visto che è la nostra zona Uno dei mercati Più potenti Del gioco Infatti abbiamo Quattro mercanti Che appunto Già automaticamente Erano inseriti Nel tirare Siam Canton E Molacca Tutte tre Che puntano Appunto Verso il nostro commercio Poi svilupperemo Sicuramente Un po' di tutto Per quanto riguarda I territori I territori Come ad esempio Questi qua Da colonizzare Potremmo sviluppare Come Ricerca Probabilmente Espansionismo Questa qui Dove possiamo avere Sia mercanti Che un paio di coloni Per quello che ci serve Effettivamente È la migliore Scelta Perché tanto territori giù Poi li scopriremo Col tempo Poi Vedremo Intanto Intanto cerchiamo Di puntare La cosa Che è più interessante Per noi E abbiamo Meno 50% Infatti abbiamo 5 morale Mica male 3.42 Non è altissimo Ma siamo all'inizio Del gioco Sicuramente in Europa Potrebbe essere Più alta Per le idee Noi abbiamo Un po' Idee Basate sul navale Commercio Come vedete Abbiamo Idee un po' Così così Rispetto magari A un bruno Oh Questo me lo prendo Sinceramente Uno stabilità Non fa male Per niente Per nessuna ragione Mi sa che qua Esplodere comunque La rivolta Che palle Non ci voleva Intanto Le truppe Sono Quasi tutte Recuperate Questo territorio Non va bene Per avere le truppe Le mettiamo qua Guadagniamo Veramente Tanti soldi C'è da dire Questo Lo teniamo Veramente Tanti soldi Siamo un po' Indietro Tecnologicamente Per quanto riguarda L'amministrativa Non va bene Perché stiamo perdendo Questi punti Sono molto Innovative Molto utile Molto molto utile Però Non dobbiamo Demordere Ecco appunto L'istituzione Ah è nata A Genova A Genova Ok Intanto però Adesso possiamo aumentare La tecnologia Tranquillamente Appena Arriviamo A un punto Di non ritorno Cerchiamo di Ecco Minchia Abbiamo Siamo stati fortunati Nostro re Nostro re Ha sviluppato Aspettate Grazie Tecnologia Meno 5% Mica male Deviate Come Nemico Infatti bastava Vedere qui C'è andata Di culo Di lusso Possiamo dire E possiamo Effettivamente Già Spendere i nostri soldi Per Diventare ancora Più ricchi Costruiamo Questi due edifici Che sicuramente Ci aiuteranno Con le entrate Guadagniamo tanti soldi Sto aumentando Sempre di più E non abbiamo Le commerciali Per aumentare I nostri introiti Se possiamo dire Boh per ora Lo so ragazzi Senza le guerre Magari potrebbe essere Noioso Ma dobbiamo puntare Un attimo A riprenderci Assolutamente Siamo messi un po' Così e così E La situazione Non è facile Anche il nostro Vassallo Come vedete Un po' distrutto A causa della guerra Non per quel panostro Ma a causa sua Che non si arrendeva Questo sicuramente Sarà interessante Di creare guerra Però abbiamo perso Il caso su belli Purtroppo Quello del vassallaggio E in futuro Dobbiamo annettere Uno dei primi vassalli Che dico proprio questo Perché è quello più Debole Attualmente Cinque anni Lo possiamo annettere Dobbiamo iniziare Poi a annettere Vassalli E vorrei Questa idea Aiutai Aiutai è molto pericoloso Dobbiamo fare attenzione Proviamo a migliorare Le relazioni Per fare L'obiettivo Con questa nazione Perché noi avevamo Una missione Se mi ricordo bene Magari L'ho capita male La missione Ok vabbè Qua tutti devono avere Devo avere Tre vassalli E tutti 50% Befriend Ciampa Deve avere Opinione 100 Ah ok Oh garantire By Malak Penso che posso Garantirlo Sì Penso di sì Proviamo Eh sì Che posso A posto Mi ha fatto la missione E avere 100 opinioni Vabbè A sto punto Alleiamoci E amen Senza perdere Troppo tempo A sto punto Facciamo una buona Alleanza Ecco qua Le rivolte Mi è morto Anche il generale Perfetto Allora Sotto Sottomettere Dai Viett Ma non penso Che sia possibile Una cosa del genere Assolutamente No Porca troia Cioè Un po' Assurdo Probabilmente Me la dava Su di lui Forse Preferisco perdere Questo Visto che abbiamo Pochi punti E nada Abbiamo rifinito I rifornimenti Del Il nostro Monpower Eh purtroppo L'abbiamo rifinito Importante È che Abbiamo risotto Le rivolte Siamo messi bene Abbiamo portato avanti Una missione Accetterebbe La vassalizzazione Eh no Beh brothers Possiamo pure sciogliere L'alleanza Scusami Ma mi serviva solo Per la missione Sì vabbè ma Comunque Avevo impossibile Sta missione Cioè Anche se Avessi aspettato A riscattarla Con i ming È una rottura Di coglioni La missione Ok però Non è che andava Nel mio interesse Qua invece Beh certo Questa qui invece Devo Dichiarare guerra Anche lui Potrei farlo Diventare Vassallo Entra un po' Di gente Ma non adesso Abbiamo la missione In più Mi serve Migliorare I rapporti Con lui Non c'è Vediamo Ancora Nel nome Di Dio 20 prestigio E ma 68 Comunque siamo Allora Adesso abbiamo Una flotta Decente Questo c'è Il generale Due stelle Dai ma Non puoi darmi Una rivolta Con il generale Due stelle Raga Però porca Troia Cioè Questo è vergognoso Vergognoso Sta roba Queste non mi aiuteranno Mai Devo un po' Sviluppare E guadagnare più soldi Ancora Però adesso Aspettiamo un momento Che qua va a finire Che mi trovo In una situazione Spiacevole Allora Abbiamo quasi 200 Massimo Delle relazioni Possiamo anche Fermarci Per ora Tecnicamente Dovrebbe Mantenere In questo modo Per un po' Vabbè qua Per le province Occupate Lui mi odia Proprio a morte Assurdo Un po' alta Al desiderio Di libertà Rispetto magari A altre nazioni Che sono Tra le galette Più forti E basta Madonna mia Ci sono più malus Qui eventi Che in tutto il mondo Bellissima Ne troppe Comunque Sembrano Dei pescatori Dobbiamo Sperare Che ci attacca Lui Così noi risultiamo In difesa Lo vedo difficile Però Uno ci spera Non vorrei Spregare soldi Per me Accenari Cioè Poi il gioco Dico io Una rivolta Cioè Con un generale Due stelle Veramente Ecco mi sta attaccando Lui Meno male Meno male Che ci ha attaccato Lui Si perdiamo Anche meno truppe Però Dobbiamo Ri Recuperare Le truppe Che bello Mamma mia Stiamo proprio Divertendo Insomma Comunque ho notato Che letteralmente Qui i castelli Proprio Non esistono Al fine la rivolta Esplosa E non ne va bene Allora Per ora però Possiamo Effettivamente Sviluppare Un attimo Le regioni Cerchiamo di guadagnare Il più soldi possibili Già guadagniamo 5.8 Puoi vendere i titoli No grazie No assolutamente Assolutamente no Ci sviluppiamo Vabbè In tecnologia Vediamo un po' Di sviluppare La nazione Appena possibile Attacchiamo Sicuramente Lui Che lo sottomettiamo Non so quanto mi dura Il casus belli E credo Dovrebbe essere Illimitato Questo qui Mi pare No Per 10 anni Eh Questo non va bene Non va bene Non va bene Non abbiamo un power Per fare una guerra Non so Spero che 10 anni Durano abbastanza Parca puttana Non vorrei Pedere questo casus belli Che è molto buono Cazzo Sicuramente Non abbiamo più Rischi di rivolte Questo è positivo Sì ma non è possibile Zio Ma è Cazzo di real Questo Eh 70% Relativa Army Power Set Vabbè 43% Cioè io letteralmente 12.000 uomini E lui 2.000 Forse contando All'insieme Tutti i miei messaggi Più vabbè Il fatto che Comunque Non ho un development Altissimo Ma forse Si sviluppa Molto in tecnologia No nemmeno Fa pure cagare In tecnologia Le deficienze Più di 2% Mica male Così prendiamo Un sacco di soldi E dobbiamo aspettare Dobbiamo aspettare Siamo senza uomini Questo è un problema Peccato perché Se perdo questo casus belli Casus belli Il problema è che Anche se volessi Ce lo Preferirei conquistarlo Perché avere 4 vassali Con già uno incazzato Non è proprio Una buona idea Ecco Mettiamola così Io Relazioni Ne sto migliorando Più di questo Purtroppo Amen Volevo fare subito Questa missione Perché Avrebbe aiutato Tantissimo Avrebbe aiutato Come te permettete In sott'anni Toro Avrebbe la missione Mi dava Che bonus 100% Income from vassal Mica male Un sacco di soldi Oh Questo non sarebbe male Prenderlo adesso Eccolo qui Perfetto Meglio spendere adesso I soldi Che costa poco Per questa roba Ecco qui Sviluppiamo La tecnologia Portiamola avanti Adesso Adesso Sicuramente Tramite il trade Guadagniamo Un bel po' Di soldini Abbiamo pochissimo Manpower Per una guerra Adesso Purtroppo Lo so Questa parte Di questo Cioè Questo episodio Sarà un po' Così ragazzi Che purtroppo Con le rivolte Eccetera Non è proprio Un'ottima situazione L'unica cosa È spendere prestigio Per Diminare questo Ma non conviene Nemmeno Che arrivi al 58% È molto Incazzato Con noi Mamma mia Esagerato Dai Su C'è solo Sottomesso Piccato Ho fatto qualcosa Di male A parte Dobbiamo Pure Ingrandire L'esercito Aiaiai Questo ci vuole Attaccare C'ho pure Tanti alleati Ma Chi sono i nostri Alleati Noi abbiamo Tre Vassalli E basta In più C'è una cosa Che forse Possiamo mettere Non so se C'è anche qui Ecco Questo Questo potrebbe Essere Molto Interessante Mi Sono dimenticato Di questa cosa Facciamo così Voila Sistemato Questo problema Perfetto E adesso Andiamo a stipulare Qualche alleanza Vediamo Qualcuno che Accetti La nostra alleanza Dobbiamo Farci un po' Di amici Adesso Questo Alleato Con Aiuttaia Se ci alleano Anche noi Facciamo in modo Che Aiuttaia Non ci rompa Non ci rompa Le palle Ecco Detto Nel modo più semplice Nel modo più semplice Sì Allora Dichiarare Questo Guerra Si è alleato Con Aiuttaia Non ci credo Dichiariamo Guerra Lui Kedak E Paraguyan Questo Merda Merda Beh Questo non è Mica male Non è mica male Cioè Non posso dire Guarda Questo si è alleato Con Aiuttaia Mi rendete conto Ah no È un tributario Di aiuto Ma vabbè Dai Che palle Che sfiga Vabbè Mi sa che La guerra Partirà contro Di questo Probabilmente Per forza Però andiamo Anche contro Di lui E amen L'unica Persona Qui possa Allearmi È con lui Sicuramente Ha interessi Per le province Sì effettivamente Potremmo fare Questa giocata Alleiamoci Con lui Ok Sicuramente Se lo dichiaro Guerra Ah No A parte abbiamo La tregua A parte che Ci conviene Attaccare lui A sto punto C'è un Bice by network Facciamo così Per ora Ce la giochiamo Un attimo Con Giro di alleanze Facciamo questo Giro Perché Vi conviene Prendere Questi territori Ok Noi sicuramente Togliamo Questo Vassallo Appena possibile Lo Eliminiamo Lo annettiamo Mi faccio Vassallo Lui E mi tengo Due vassalli Che pian piano Vassallo Lui Me lo tengo Con questo Questo Vassallo Lui E annetto Lui Magari E me li levo Pian piano Sì magari usiamo I punti diplomatici Eccetera Però è abbastanza conveniente Intanto qua Punti diplomatici Possiamo effettivamente Già Usarli Per sviluppare Questa città Non so Non so se Attivare L'estate L'estate Vediamo Però dopo Mi costo 200% In più Però Mi toglie Un po' Del costo Di quella Roba L'innovazione È abbastanza Alta Vabbè Quando la potenzio Proprio Lo faccio Un attimo E vediamo Dai Cioè Ci ragioniamo Su Intanto Prima Mettiamo Un attimo 5-5 A meno Così siamo Messi bene Tecnologicamente E portiamo L'istituzione Qui Cioè Siamo 2.16 E sviluppiamo Questa città Per forza Prendiamo Un bel po' Di soldi Grazie ai nostri Cari Vassalli Che ci danno Comunque Quasi 4 monete Solo l'oro Tutto il resto È Ah stavabbè Qui 3.67 Tutto il resto È trade E tasse Produzione Bassa A proposito Di produzione Noi cosa abbiamo Abbiamo anche Poi per un cinazzo Mica male Abbiamo belle risorse Qua poi c'è L'incenso C'è Vincenzo Non è mica male Questa è la ragione Ok vabbè Annettendo poi Il vassallo Ci prendiamo tutto Boh Comunque la situazione Sicuramente Non è Super favorevole Per noi Nel senso che È partita Questo secondo episodio È un po' male Abbiamo un po' Di nemici ovunque Se attacco lui Purtroppo Aiutai a rompere i coglioni Se attacco di qua Ce l'ha tregua Non posso farlo È l'unica cosa Tenermelo amico Lui Che comunque È l'esercito più grosso Magari potevo conquistarlo Oppure Potrei Sottimettere lui L'alleato Con Verau Che è questa Ma Brunè è proprio fermo Ma meglio per noi Che Brunè non si espanda Machapahit Lo vedo lì Messo È sopravvissuto Alla crisi Chi lo sa 50% Ci manca ancora Un po' di strada Una cosa che mi dispiace Che hanno tolto Una volta qua Si dava Manpower Io non so perché L'abbiano tolto Era bellissimo Che faceva tanta differenza Nei game Poi Distrutto il mondo Magari era troppo sgravo Per alcune nazioni La Russia Giusto per fare un nome Mamma mia Si era sgravissimo E niente Per ora È andata abbastanza Marino Con l'espansione Però Abbiamo un po' Organizzato l'economia Siamo un po' Bello Questo mi piace Questo mi piace Tantissimo Io direi Di attivarlo Visto che abbiamo Un sacco di soldi Perfetto Ci costerà un po' Di più La provincia Non ce lo dirà Poi lui Quanto E risparmiamo Un po' Di punti Mi sa Questo è meglio Dobbiamo sviluppare La città Eh ho sbagliato Dobbiamo sviluppare La città Sebbene L'istituzione Il primo possibile Questa provincia Vabbè un po' Così così È bellissima Singapore Così piccolina Avere tanta pazienza Tanta pazienza A livello tecnologico Siamo un po' Indietrino Anche Però essendo Che guadagniamo Tanti soldi Noi possiamo puntare A mettere Un po' Di persone Che lavorano Per noi Qui Direi mettiamo Lui National Arrest Mettiamo Anche lui Qua speravo Qualcosa di più Decente Però va bene Guadagniamo Meno soldi Ma guadagniamo Più punti Siamo 7-8-7 Purtroppo C'è un'alleanza E più Lo so Mi serviva Un'alleanza Momentanea E Le alleanze Ci aiuteranno Per il futuro Però Ma ci ha Vai it Ma la H E Oh Mi ha dato 100 punti Meglio Forse Forse no Andiamo a mettere Nuove truppe Preferisco Queste sono Un po' Più Forse meglio Sì sì Mi tengo Quelli là Assolutamente Forse meglio Intanto possiamo Iniziare A Dannettare a breve Questo vassallo Facciamo pure Prima Di iniziare Una futura guerra Trade Efficienza E assolutamente Mamma mia Voglia Che meglio Quello Cazzo 64% Ottimo Per Guadagniamo Un sacco di soldi Soprattutto in futuro Con una cosa del genere Dunque sì Guadagniamo Veramente Tanto Veramente Veramente Tanto Guarda Quanto cazzo Ci danno Adesso i vassalli Porca Troia Bello Questo guadagno Bello Mi piace Mi piace Mi piace Abbiamo Pre-advisor Pensa Minchia Siamo messi Benissimo Non bene Ma benissimo Allora Fabric Claim Andiamo Su Rocan Che è più vicino Il nostro obiettivo Così lo conquistiamo Abbiamo un matrimonio Reale Purtroppo Eh Purtroppo sì Non so Se rischiare Uno di stabilità Per la guerra Stanchezza di guerra Più uno Partiamo poi Un po' un rischio Un po' un rischio Se posso dire Un po' rischioso Un po' rischioso L'istituzione La stiamo portando Abbastanza avanti Cioè Oddio Manca tanta strada Però È già qualcosa Dobbiamo sviluppare Purtroppo La città Per l'istituzione Se vogliamo Subito E vediamo Vediamo un po' Allora Qui gli estit Possiamo Potremmo Picchiarli Però dopo Perdiamo La fedeltà Cioè l'oro Già un po' Bassina Rispetto agli altri Quindi sarebbe Un po' rischioso Poi tanto Comunque Con lo sviluppo Della città Sicuramente aumenta La potenza Della corona So che Adesso L'assoludismo Non servirà Molto Però Sinceramente Non la vedo Negativa Comunque Averlo già Abbastanza alto E in più Questo È utilissimo Me lo tengo Per ora C'è la possibilità Di avere più alleati E qui la situazione È abbastanza Difficile Per ora Abbiamo dovuto riposare Abbiamo recuperato Un po' le forze Abbiamo fatto bene Perché assolutamente Andare in guerra Scendere in battaglia Con l'esercito stanco E tutto Non era Sensato Sinceramente Abbiamo una buona Tecnologia militare Effettivamente Possiamo anche Fare delle guerre Senza problemi E sicuramente Le potremmo vincere A mani basse Senza problemi Più che altro Speravo di poter Attaccare lui Fin da subito Ma Non so com'è Abbia scelto Di sottomettersi Al nostro Rivale Futuro rivale Allora Questo ci dà Vuole che Sottomettiamo Quella città Io lo metterei Ah Pensa un po' Aiutaia Al momento di andare in guerra No scherzo Questo mi massacra Mi riempie di botte Con niente Buon ragazzi Io direi per adesso Di fermarci qui Abbiamo recuperato Un po' di forze Abbiamo fatto un po' di cose Penso probabilmente La nostra guerra Si concentrerà Su di lui Comunque Sicuramente Ha delle risorse Interessanti Anche lui Come appunto Le spezie Dovrebbero essere spezie Giusto sì E in più In generale Comunque riguarda Il nostro mercato Sicuramente Converrebbe Vassalizzarlo Più che conquistare Perché comunque Dà un bel po' Di soldati Lui possiamo fare Già annetti In questo caso Iniziamo ad annettere Questo vassallo E vassalizzare appunto Lui Fatto questo La nostra partita Si farà sicuramente Molto interessante Non interessante Ma molto interessante Con la guerra Ci guadagniamo Due cose in uno Ovvero Si vassalizza lui Si conquistano queste province E abbiamo Già tutta questa regione Sotto controllo Siamo abbastanza a posto Però Dobbiamo sviluppare Sicuramente Un bel forte qui Secondo me In futuro Ci costa anche poco Ci conviene forse Farlo adesso Io lo farei Assolutamente Ci serve un forte Difensivo Qui contro Appunto Il nostro Aiuttaia Conquistando queste due province Sono tutte pianura Quindi Il punto migliore Qui Perché non credo Ci siano altri punti Sì infatti Sono tutti uguali Il migliore è questo Facciamo quest'area Il forte E ci proteggerà Da magari Futuri invasioni D'Aiuttaia O magari Se noi Invadiamo Aiuttaia Può essere utile In caso di una Battaglia persa Detto questo Ci vediamo Nel prossimo episodio Alla prossimo episodio